Un'intera giornata dedicata ai professionisti del mondo IT, direttori ed HR manager è la Cloud Conference Italia, la più importante manifestazione del Triveneto, dedicata al mondo del digital, che si è svolta il 17 ottobre al BHR Treviso Hotel a Quinto di Treviso. La Cloud Conference Italia ha permesso di ascoltare e apprendere, dalle voci più autorevoli del settore, le novità che traineranno il modo di pensare e vivere del business. La giornata, promossa da Resolve SRL, società Benefit Patavina di Consulenza, è stata tenuta a battesimo dal campione di pallacanestro, già capitano della Benetton Treviso, Riccardo Pittis, e introdotta da Sara Anselmi, Global Partner Solution Lead di Microsoft Italia, che ha presentato i risultati della nuova ricerca condotta con The European House Ambrosetti sull'impatto dell'intelligenza artificiale generativa per l'economia italiana e il made in Italy. Siamo con Daniele Della Bianca, amministratore delegato di Resolve. Qual è la ricetta di Resolve nell'affiancare manager e imprenditori nel percorso di innovazione e nella gestione dei processi e delle risorse umane? Allora, non so se parlare di ricetta, ma sicuramente di elemento distintivo. La risposta stava anche un po' nella domanda, nel senso che l'affiancamento è qualcosa che contraddistingue non solo i servizi di Resolve, ma i servizi che Ergon Group eroga, puntando molto sulla fase di ascolto iniziale e poi sulla parte di accompagnamento. Per quello che riguarda l'innovazione tecnologica ai processi, credo che l'approccio corretto, al di là della metodologia scelta noi che è sicuramente questa, è un approccio olistico, cioè non distinguendo l'aspetto tecnologico da quello che invece è un aspetto legato alla conoscenza verticale del processo. La caratteristica distintiva di Resolve è mettere insieme competenze tecniche e digitali con esperienza del mondo, probabilmente nel mondo della consulenza, di professionisti che conoscono i processi, le aziende e le metodologie e hanno ventennale esperienza. Ecco, l'insieme di queste due cose, quindi l'intelligenza artificiale, il neonato, l'enfant prodige, con la generazione magari di chi conosce però le aziende, di chi sa accompagnare, di chi mette insieme e può mettere a disposizione anche la propria capacità relazionale, il lato anche umano che poi fa la differenza nei progetti. Qual è il valore aggiunto di un evento come quello di oggi? Beh, il valore aggiunto di un evento come quello di oggi è sicuramente quello di, da un lato, essere un evento comunque formativo e informativo su quello che sono le nuove tecnologie, soprattutto lato Microsoft, ma non solo, ma dall'altro lato proprio la capacità di mettere insieme proprio questi mondi e questo evento è fondato sull'intreccio di quelli che sono tre pilastri che saranno i protagonisti del cambiamento nei prossimi anni che sono la transformazione digitale, la sostenibilità e il mondo del risorso umano che non può mancare, ma anzi è centrale nel nuovo paradigma di fare impresa di un'azienda orientata alla quinta rivoluzione industriale. Sara Anselmi, Global Partner Solution Lead di Microsoft Italia. Da anni Microsoft è il più autorevole tra i partner tecnologici di Resolve. Promuovere i benefici delle nuove tecnologie e le opportunità del digitale a partire dal cloud e dall'intelligenza artificiale generativa è il suo lavoro. Come fa a trasferire ai vostri partner e quindi alle imprese questo concetto di innovazione? I partner come Resolve sono chiave per portare l'innovazione e i nostri prodotti su tutte le aziende italiane, dalla grande impresa fino alla piccola e media. Noi lavoriamo a fianco dei nostri partner con importanti programmi per investire nelle loro competenze e in questo momento sono chiave le tecnologie di intelligenza artificiale generativa e in particolare i co-pilot che noi abbiamo inserito in tutta la nostra offering e che permettono alle persone e alle aziende di risparmiare tanto in termini di produttività. Quindi fare di più, fare meglio e lavorare affinché appunto i loro processi e le loro funzioni di business riescano veramente a portare a casa un valore aggiunto. Cosa devono fare le aziende oggi per aprirsi alle nuove tecnologie? Con lo studio che abbiamo presentato lo scorso settembre ad Ambrosetti abbiamo dimostrato che l'opportunità è enorme. Stiamo parlando di più del 18% del prodotto interno lordo in aggiunta con un'adozione dell'intelligenza artificiale a scala. Quindi quello che io dico alle aziende è che la prima cosa che devono fare è partire, è provare perché il vero rischio è non cogliere questa opportunità. Quest'anno ad aprire la Cloud Conference Italia è stato Riccardo Pittis, tra i più forti giocatori di basket in Italia tra gli anni 90 e il 2000. Oggi mental coach e speaker motivazionale. La digitalizzazione è un processo inevitabile ma a molti sentir parlare di intelligenza artificiale fa paura. Quanto è importante trovare il coraggio di affrontare il cambiamento per avere successo? Io credo che in questo periodo storico occorra invece parlare proprio di intelligenza artificiale perché l'impatto che avrà sulle nostre vite sarà enorme. Di conseguenza dobbiamo essere preparati per far sì che possiamo accogliere questo grande cambiamento. Perché? Perché potrebbe effettivamente aiutare la vita di molti di noi. Quindi ci vuole coraggio? Sì, sicuramente. perché è un qualcosa, ad esempio, per uno che appartiene a un'era analogica come posso essere io, come possono essere tanti come me, capire che invece non dobbiamo pensarlo come a un ostacolo ma come a una grande opportunità. E quindi poterlo abbracciare, poter imparare, avere la voglia, la curiosità di inserire qualcosa di completamente nuovo e diverso nella nostra vita capendo che poi quel qualcosa magari non è così spaventoso ma invece è davvero un grande aiuto. In un paese che invecchia i giovani sono una risorsa che si rischia di far scappare all'estero sempre di più. La tecnologia può avere un ruolo nel trattenerli qui da noi? Ma più l'innovazione tecnologica aumenta, più probabilmente i giovani sono interessati a rimanere in un paese. Noi giovani chiaramente, soprattutto, no scherzo ovviamente, noi tutti dobbiamo fare in modo che queste risorse non vadano all'estero ma restino in Italia perché grazie a loro il paese potrà crescere e di conseguenza prosperare ed ecco che occorre adottare delle politiche che possano in qualche modo agevolare questa retension. Direi che la tecnologia è sicuramente un tema che è vicino alla loro mentalità, di conseguenza aiutare e fare eventi come quello che magari abbiamo fatto oggi, cercando di coinvolgere più persone giovani possibili, potrebbe essere una strada. Siamo con Matteo Mascarino, direttore operativo Resolve. Qualche settimana fa Draghi ha presentato il suo report sulla situazione economica e sulla competitività europea, sottolineando che l'Europa è un passo indietro in termini di innovazione tecnologica e ribadendo l'importanza di una crescita tecnologica sostenibile. Come può avvenire questo nella quotidianità di ogni impresa italiana? Draghi ha detto quello che in realtà noi già sappiamo. Non a caso gli investimenti in intelligenza artificiale negli ultimi mesi sono tutti concentrati su Stati Uniti e Cina prevalentemente quindi fondamentalmente l'Europa deve correre, parlavamo prima nella plenaria di rincorsa, deve correre a colmare questo gap. Dall'altra parte, io penso che comunque nel continente in cui ci troviamo ci siano le competenze tecnologiche per poter colmare questo divario. La cosa importante è, e anche qui mi rifaccio a quello che è stato detto durante la keynote di questa Cloud Conference, è abbracciare il cambiamento. Io penso che le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, debbano imparare a fare rete prima di tutto, che è un qualcosa che magari soprattutto in Italia ci manca ancora un pochino e fondamentalmente farsi accompagnare da partner tecnologici che possono essere d'aiuto, possono essere d'accompagnamento come ad esempio Resolve nel passaggio sia tecnologico che di processo e quando dico processo intendo anche processo sostenibile. Le chiedo quali sono le prime impressioni a caldo di questa Cloud Conference ancora insomma viva? Beh intanto tante emozioni, anche umane devo dire la verità, tanta partecipazione. Io sono alla mia seconda Cloud Conference e quindi posso fare il confronto anche con la Cloud dell'anno scorso. Tanto interesse e ovviamente non lo dico neanche tanto fermento per il tema intelligenza artificiale che ovviamente è sulla bocca di tutti.